E' bella a tutti i guabari, qui è JTF Jacky che vi parla E oggi siamo tornati qui sul canale dei clan con un gameplay ragazzi della madonna Davvero ragazzi, quando l'ho visto ero lì che stavo quasi sborrando dicendo What the fuck Infatti si tratta del nuclear più veloce al mondo ragazzi Non in Italia, al mondo e non è fatto con un'arma a casa, ma insi di cecchino Fettuati in un minuto e 46 dal nostro JTF Dan e che è Ciccio e che è il ragazzo biondo che ho conosciuto al Games Week Allora ragazzi, detto questo, non voglio stare a parlare tanto di gameplay appunto perchè è velocissimo Però volevo sento darvi un aggiornamento, un'informazione appunto perchè il commentario è breve e corto Perciò non posso stare a delincarvi tutto E quello, anzi il punto fondamentale che voglio parlare è questo Ragazzi dovete rimanere sintonizzati sul canale del JTF Se avete amici che li conoscono, se avete gli zii che vogliono scoprire qualcosa di nuovo eccetera Ditegli di passare perchè sta per succedere qualcosa Non vi posso ancora dire nulla ma sta per succedere qualcosa E ci sarà una rivoluzione, la rivoluzione suona un po' male Però comunque un svecchiamento all'interno degli JTF Clan mettiamola così E appunto speriamo che possa piacere anche a voi questo progetto Però prima, nel senso, dovremo sapere anche un po' noi di cose Per questo è ancora una cosa molto in segreto Per questo appunto dovete rimanere sintonizzati E potete già farlo da questo video Magari iniziando con lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto Un commentario e un commento se dovete farmi qualche domanda riguardo a qualunque cosa Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale del clan E passate tutti i link in descrizione E nulla Qui da Giacchi è tutto E bella che babbari Non ti piace il JTF Figa Ammazzati Figa sparati Quando arrivo devi farmi passare